ciao sono william bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti parlerò di maniglie di sicurezza ma prima di parlartene voglio farti capire a che cosa ti servono queste maniglie di sicurezza servono contro i furti contro i malintenzionati esistono dei signori tra virgolette che fanno un foro della finestra e passando dentro con uno strumento girano la maniglia e aprono la finestra con un buco viene chiamata in gergo appunto la banda del buco sembra una cosa da ridere e in realtà è una cosa molto molto seria con questo tipo di maniglia con un pulsante è impossibile girare la maniglia senza premere il pulsante quindi ti mette in sicurezza dalla banda del buco puoi fare due cose te le faccio vedere da vicino soluzione 1 maniglia con pulsante integrato molto bene soluzione 2 maniglia con chiave ancora più sicura più scomoda la più sicura più si aumenta la sicurezza più la finestra diventa un pochino scomoda è sempre così terza possibilità assoluta novità ma di questa te ne parlerò nel prossimo video ultima cosa molto molto importante per mettere di sicurezza la una finestra non basta la maniglia di sicurezza se vuoi molta sicurezza oppure dotare tutta la ferramenta di sicurezza il vetro blindato tutto a regola d'arte e certificato all'interno di un sistema e a proposito sistema il montaggio il montato deve essere fatto a regola d'arte come ad esempio con il sistema bisacchi che è anche specifico per le finestre blindate quindi sicurezza di finestra di vetro di ferramenta e di montaggio ciao e al prossimo video